Amici 17, ecco cosa accadrà nella puntata di stasera 28 aprile Sabato 28 aprile 2018 andrà in onda il quarto appuntamento del Talent Mediaset. Questa sera dopo striscia la notizia su Canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento di Amici 17, video. Dopo l'avventura all'isola dei famosi 13 con il ruolo d'inviato, Cancelletto Stefano De Martino tornerà a danzare nel talent show condotto dalla De Filippi. Lo scorso dicembre, l'ex marito di Belen Rodriguez per affrontare questo nuovo impegno lavorativo aveva lasciato la scuola di Amici e a metà gennaio 2018 è partito per l'Honduras. Il ballerino partenopeo, però, si troverà davanti la sua ex Fiamma Emma Marrone, anch'essa ospite del programma Mediaset. Lo cantante Salentina duetterà con il rapper biondo il brano di Adele Sommeone Licheio. Durante la serata ci saranno anche altri ospiti che si esibiranno con gli allievi di entrambe le squadre. Nello studio Elios di Roma si presenteranno, i Tecolors con il leader Stash, Roby Facchinetti e il collega dei puri Cardofogli e Alessandra Amoroso. Quest'ultima anche se fa parte della commissione esterna, duetterà con un ragazzo della squadra Blue. Amici 2018, le sfide della quarta serata. Questa sera, come ogni settimana, gli allievi di canto e di pallo di entrambe le squadre si sfideranno davanti al pubblico, i professori e la commissione dei giudici esterni. I telespettatori sono in ansia per la nuova prova che è stata affidata ai ballerini, ovvero la battle, una coreografia realizzata da Luca Tommassini. Secondo le prime anticipazioni, Luca dovrebbe esibirsi sulle note di un brano di Adele, Brian invece, dovrebbe danzare con il sottofondo musicale delle danze di Parigi. Per quanto riguarda Matteo interpreterà la celebre canzone di Andrea Bocelli Con te partirò, mentre Biondo, come accennato nel paragrafo precedente duetterà con la marrone. Super ospite il rapper Fedez, Ermal Meta assente. Un altro ospite della sesta sarà Cancelletto Fedez che a differenza di Emma e IT Colors, non duetterà con nessun allievo. Il compagno della fashion blogger Chiara Ferragni canterà il suo singolo comunistico Rolex. Nel quarto appuntamento di Amici 17 il giudice esterno Ermal Meta sarà assente per altri impegni professionali. Sarà il rapper milanese o Emma a prendere il suo posto? Molto probabilmente la decisione spetterà alla padrona di casa Maria De Filippi, video. . In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, consigliamo a tutti i nostri lettori di digitare sul pulsante Segui canale Cancelletto Amici di Maria posizionato sotto il titolo principale di questarticolo. .